Fratelli nell'amore per Dio e uniti per il bene dell'uomo. È la strada che insieme stanno percorrendo i cattolici e i musulmani in Gran Bretagna, un'esperienza culminata mercoledì mattina nell'udienza di Papa Francesco da alcuni imam inglesi accompagnati in Vaticano dal cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster. Una, la raccomandazione suggerita dal Pontefice, ascoltarsi senza gridare. A me piace pensare che il lavoro più importante che noi dobbiamo fare oggi, fra noi e nell'umanità, è il lavoro dell'orecchio, ascoltarci. Fratelli, tutti noi vogliamo parlare, ascoltarci e parlare adagio, tranquilli, cercare insieme la strada e quando si ascolta e si parla, già ci è in strada. Parole che sono espressione di un clima sereno e che riflettono anche il grande rispetto che il mondo musulmano ha nei riguardi di Papa Francesco, atteso tra poche settimane in Egitto. A sottolinearlo anche il cardinale Vincent Nichols, giunto in Italia martedì scorso insieme agli imam, nel collegio inglese si è tenuto un incontro all'insegna del dialogo e del confronto. Vengono ricolmi di rispetto, di amore e con la speranza che la sua presenza li rafforzerà nel loro ruolo e confermerà tutti nel dialogo reciproco per portare al mondo le risorse positive delle religioni, perché abbiamo bisogno che queste forze collaborino a servizio dell'umanità, oggi più che mai. Solo alcune settimane fa i leader religiosi in Gran Bretagna hanno condannato l'attentato del 22 marzo scorso a Londra, costato la vita a quattro persone, un attacco terroristico condotto con un'auto contro i pedoni sul ponte di Westminster, una vicinanza tra fedi diverse per evadire che il terrorismo non può dividere. Ebrei, cristiani, musulmani, soprattutto, siamo rimasti uniti in quel giorno e lo abbiamo affermato. Noi siamo uniti, restiamo tutti uniti e non permettiamo all'odio, da qualunque parte venga, di permeare la nostra stessa reazione, perché se lo facciamo, facciamo il gioco dei terroristi, che vogliono diffondere odio e divisione, per far sì che la grandezza del mondo venga minata. Sono molti gli ambiti in cui la Chiesa Cattolica collabora con la comunità musulmana, dall'accoglienza dei profughi, al di là della loro nazionalità e fede, fino ai più indigenti. Uno sforzo che mostra come la religione sia da sempre veicolo di solidarietà e pace. Come persone di fede, musulmani e cristiani, viviamo nella speranza e dobbiamo essere ottimisti sul fatto che supereremo gli ostacoli del mondo di oggi se ci uniamo, lavoriamo insieme e ci impegniamo per la pace e la giustizia in tutto il mondo. Ci sono molti esempi, anche nel Regno Unito, di cristiani e musulmani, ma anche di altri gruppi religiosi che si riuniscono per aiutare i rifugiati, i senza tetto, per creare i banchi alimentari. Noi lavoriamo con la Chiesa Cattolica nel campo dell'educazione, nel far comprendere al governo inglese le necessità delle comunità religiose. Molto lavoro è stato già realizzato nel Regno Unito e sarà bellissimo poter condividere alcune di queste esperienze con Sua Santità.